Compiuto il primo passo verso la gognata realizzazione dello svincolo autostradale di Geo Samarea lungo il viadotto Zappardino sulla A20, il direttore tecnico del consorzio autostradale Gaspare Sceusa ha dato parere positivo allo studio di fattibilità presentato nel 2013 dall'amministrazione comunale di Geo Samarea. Soddisfatto il sindaco Edoardo Spinella che dopo aver sollecitato a più ripresi il Cassa ad esprimersi, chiede adesso la costituzione di un tavolo tecnico per affrontare i passaggi successivi, dalla progettazione al finanziamento coinvolgendo tutti gli enti preposti. Una notizia fondamentale per tutta la comunità commenta il sindaco, si tratta di quel primo passo importante che si attendeva da anni e che ci permette adesso di poter avviare l'iter procedimentale per realizzare lo svincolo, opera infrastrutturale prioritaria per garantire al territorio una viabilità alternativa, valida e sicura nelle situazioni di emergenza che si determinano ogni qual volta la statale 113 viene chiusa al transito per frane o smottamenti. Continueremo ad interloquire con il Cassa, oltre che con tutti gli enti e le istituzioni di competenza, afferma Spinella, per poter operare sinergicamente e velocemente e definire l'intero itera ai vari livelli regionali e ministeriali. Intanto sulla frana di Caposchino, che lo scorso 25 marzo ha nuovamente interrotto la statale, il sindaco ha incontrato l'assessore regionale al territorio ambiente, Maurizio Croce, che ha confermato l'impegno assunto con le risorse messe a disposizione per gli interventi di consolidamento del costone roccioso in località Schino con il patto per il sud. L'obiettivo è poter avviare in fretta i lavori che l'ANAS sta predisponendo per la riapertura della statale, ma anche programmare interventi a medio e lungo termine per la viabilità del territorio.